Amiche e amici di Tolentino, se vi va, vi aspetto il 9 dicembre a Tolentino, al Teatro Don Bosco, ore 21, 21 e 15, ma vede un po' prima, che magari già cominciamo a chiacchierare e ci divertiamo un po' prima, col mio spettacolino, La Macchina della Felicità, 9 dicembre, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sabato 9 dicembre alle 21 e 15 al Teatro Don Bosco di Tolentino, coinvolgente spettacolo di Flavio Insinna. Sì, Flavio Insinna e la sua piccola orchestra in La Macchina della Felicità, un grande show itinerante con la direzione musicale di Angelo Nigro. Ingresso 20 euro, prenotate subito il vostro posto. Info e prevendite Proloco Tolentino, 0733 97 29 37 e dal 6 dicembre presso il Botteghino del Teatro, 0733 97 22 20. Il 9 dicembre al Teatro Don Bosco di Tolentino, Flavio Insinna. Grazie.